Dal Vangelo secondo Matteo Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali della Giudea? Da te infatti uscirà il capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare, li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Pace e bene a tutti voi carissimi amici che seguite il Signore dei giorni, l'appuntamento settimanale con la parola di Dio della Domenica e delle solennità. Siamo ancora nel clima pienamente natalizio. Il 6 gennaio, quest'anno domenica, si celebra la solennità dell'Epifania del Signore, cioè la manifestazione del Signore all'umanità in attesa. Entrati nella casa, si prostrarono e lo adorarono. Sto parlando naturalmente dell'atteggiamento dei magi, quando giunsero al luogo dove era nato Gesù. Il Vangelo di questa solennità, che ci parla di alcuni magi che si mettono in viaggio per trovare il bambino, a cui offrono oro, incenso e mirra, e dinanzi al quale si prostrano in adorazione, ci fa riflettere su diversi aspetti attinenti proprio i nostri percorsi di vita spirituale. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano, «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Sappiamo bene, sempre dalla pericope evangelica, che questo non fa piacere ad Erode, che si informa dei sacerdoti e degli scribi sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. E loro risposero, «Betlemme, ricordando la profezia, e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Erode si informa, ma ha evidentemente un'intenzione totalmente opposta e diversa rispetto a quella dei magi. Quindi fornisce le indicazioni ai magi solo perché al ritorno potessero indicargli precisamente il luogo e quindi agire contro il bambino. Ma le cose non vanno assolutamente secondo i piani di Erode. Lo sappiamo bene, i magi, avvertiti in sogno, fecero ritorno al loro paese per un'altra strada. Bene, i magi si mettono in viaggio perché cercano qualcuno. Per loro è importante compiere questo viaggio. Camminano e chiedono dov'è la persona che cercano, colui che è nato. Ma il cammino nasconde delle insidie, per cui bisogna essere attenti e quando è necessario saper cambiare anche strada. Un po' è quanto accade anche nella nostra vita. Pur sapendo quello che cerchiamo, ci lasciamo ingannare, potremmo dire, dai tanti erodi che cercano di ammazzare la verità che è dentro di noi. Pur sapendo che Gesù è il Signore, spesso facciamo fatica ad assumere nei Suoi confronti l'atteggiamento giusto di adorazione e far dono a Lui di ciò che siamo. Spesso, distratti dai bagliori delle cose effimere, non riusciamo a capire che bisogna cambiare strada per andare verso il centro, che è Cristo. Impariamo dai magi, facciamoci furbi come loro. Oggi il bambino che è nato si manifesta a noi. Mettiamoci in cammino, cerchiamolo e adoriamolo con una condotta di vita coerente con la fede che professiamo. Auguri, buona festa dell'Epifania del Signore e pace e bene a tutti.